In Italia la migliore delle segretarie possibili è quella che è nata, scaturita, sgorgata dall'intelligenza critica culturale di Franco Basaglia. Le segretarie che vengono oggi realizzate in Germania e non solo in Germania non danno valore e significato, orizzonti di senso a quella soggettività, a quella dimensione spirituale, emozionale, sociale della vita che pure è la cosa essenziale di ogni realizzazione terapeutica, di ogni cura che cerchi di alleviare l'angoscia, la disperazione, la morte volontaria.